Conferenza stampa, vigilia della sfida tra Napoli e Ferdi, quarta di finale Scudetto in diretta su Sky Sport domenica, siamo il capitano Nando Perugino, buonasera. Buonasera. Nando, ci siamo, è arrivata la prima partita dei pre-off Scudetto, il Napoli ci arriva, il finale di stagione altalenante, la brutta prova con la CAM e poi la grande vittoria di Pesola che vi ha dato il terzo posto. Sì, finalmente arriviamo al momento finale della stagione, il momento più importante, quello dei play-off, ovviamente ci si arriva dopo una stagione lunga tra alti e bassi dove abbiamo fatto tanto lavoro per arrivare qui e finalmente arriva il bello della stagione. È stato un campionato molto equilibrato, abbiamo detto sempre, dove tutte le squadre hanno vissuto il momento negativo, certamente il Napoli magari sperava a un certo punto di prendere la seconda piazza, però sappiamo benissimo che i play-off sono un campionato a parte dove probabilmente il piazzamento in classifica il Napoli è testimone allo scorso con Tagore. Io penso che mai come quest'anno il campionato sia stato equilibrato nelle prime posizioni, poi stesso il campionato ma anche la Coppa hanno dimostrato che tutti gli avversari sono temibili, la serie è molto molto livellata, sarà un play-off difficile e tutte le avversarie sono veramente insidiose. Nando, è un Napoli che si prepara ad affrontare la Fendi, che poi è stata la vostra avversaria nella semifinale di scuoletta l'anno scorso, dove andò anche male, perché poi il Napoli vinse la prima in trasferta e poi perse le due in casa, successe qualcosa di molto particolare sicuramente, quest'anno l'affrontate con uno spirito diverso e soprattutto già con un trofeo in bacheca, quindi anche forse con lo spirito giusto. Sì, loro sono i campioni d'Italia, sappiamo benissimo che sono una squadra molto forte, sia in campo ma anche nella testa, sappiamo che dovremo dare il massimo per superare già il primo turno, ci aspettano due o tre sfide difficilissime contro una squadra che conosciamo, rispettiamo tanto, ma di cui non abbiamo paura, quindi siamo pronti a dare il massimo. Quanto vale nella vostra testa anche il discorso del fattore campo? Perché poi è cambiata anche la regola che si gioca la prima in casa, la seconda in trasferta, è una cosa che dal punto di vista mentale vi preoccupa, non vi colpisce letteralmente? No, io penso che per superare il turno devi dimostrare di essere più forte, sia in casa che fuori, questo ovviamente ci può dare una mano qui tra le muramiche quando ci sono i nostri tifosi, ma sono sicuro che ci seguiranno anche a Eboli, come hanno sempre fatto, e ti ripeto, dobbiamo solamente dimostrare di essere più forti se vogliamo passare il turno, è l'unica cosa che conta. A proposito di tifosi, Aversa ha sempre risposto alla grande, all'appello nel momento delle grandi partite, è ovvio che domenica ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni. Sì, i tifosi del Napoli hanno sempre risposto presenti, addirittura sono venuti anche a Policoro per sostenerci e seguirci e sono sicuro che il loro affetto non mancherà nemmeno domenica. Grazie.